mai senza monge natural super premium le crocchette made in italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente monge il pet food che parla chiaro ben ritrovati ben ritrovati a tutti buongiorno buona domenica qui da radio rossonera mattino milan post partita quello dopo roma minan che finisce 1 a 1 finisce 1 a 1 nel recupero veramente nel recupero perché sono stati due gol segnati ben oltre il novantesimo e tra poco ne parliamo anche gli unici due tiri in porta della gara enrico boiani ciao enri ciao buongiorno buongiorno a tutti buona domenica eh sì buona domenica buona domenica a tutti mattino minan particolare di solito non andiamo in onda di eh nel weekend però essendoci anche il ponte del primo maggio facciamo un piccolo recap di cosa che è stata la partita di ieri è stata una partita una volta si diceva è stata una partita maschia è stata una partita di contatto è stata una partita per uomini forti a me è sembrata semplicemente una brutta bruttissima partita in tutti i sensi sì 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 c'è non lo abbiamo già detto ieri nel post partita non non abbiamo visto troppo in in cento minuti centuno adesso non mi ricordo di 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 tempo gli effettivi sono stati 49 quindi neanche neanche la metà è il pari dei rimpianti è il pari dei rimpianti ma non so se sia il pari dei rimpianti onestamente perché nell'economia della gara il pareggio forse è anche giusto cioè fanno due tiri in porta uno da una parte uno dall'altra e il milan non è stato capace di di trovare alternative a all'impostazione della gara come l'ha voluta la roma e la roma altra parte seppur abbia dei giocatori comunque anche buoni finché gioca così non so quanto potrà vincere partite contro certe squadre ecco quindi il pareggio in realtà per quanto mi riguarda può anche starci dovevi fare di più che dovevi trovare qualche alternativa dovevi giocare un venti minuti a abbondanti in superiorità numerica di cui gli ultimi dieci in doppia superiorità numerica e questo non è accaduto ed è gravissimo per quanto mi riguarda e quindi non so non saprei dirti se è il pari dei rimpianti di sicuro la corsa Champions League si infiamma ancora di più perché c'è il rischio che l'Inter ti agganci perché l'Atalanta ha già rosicchiato qualche punto perché la Juve potrebbe andare tra virgolette scappar via in attesa di altre di altre come dire decisioni sul suo futuro dal punto di vista dei punti e quindi è così ecco è così la sconfitta non ci stava per me sarebbe stata quella sì una partita da rimpianto e da beffa tornare a casa con nessun punto e con la Roma tre punti sarebbe stato per quanto mi riguarda anche ingiusto ecco ma forse era anche ingiusto se avessi vinto tu per come per quello che hai creato e per come è stata la partita quindi ti dirò il pareggio forse è il risultato più corretto al netto di quelle due espulsioni che avrei voluto vedere la partita in 11 contro 9 tra poco appunto ne parliamo anche di quello che è successo extra diciamo così milan fuori dal contesto che ci compete più strettamente con le decisioni di orsato però come scriveva poco fa gazzetta lo rimetto un attimo in onda giusto per poter risposta tra il 94 e il 97 e bramellude samaker fona uno neanche un tiro in porta fino agli ultimi minuti folli perché i due gol sono gli unici due tiri in porta della gara uno della Roma e uno del Milan e possiamo anche fermarci qui a trovare tutte le scuse del caso eccetera però non fare un tiro in porta per 96 minuti le scuse diciamo così trovano un po' il tempo che che possono trovare e finiscono lì 96 minuti senza prendere lo spesso io ieri ho detto sì ma è stata una gara in cui cioè è stato un pomeriggio un tardo pomeriggio una serata scegliete voi la fascia temporale che preferite in cui per quanto mi riguarda abbiamo visto poche cose belle cioè in generale pochissime cose se non nulla di di bello perché hai sbagliato probabilmente l'approccio cioè non l'approccio come volontà l'approccio pratico alla gara perché hai fatto le sempre le stesse cose che ti riescono bene ma ti riescono bene con un certo tipo di avversari e non con tutti gli avversari e la Roma è l'avversario più ostico per quelle che sono le cose che a noi riescono bene vedrai che l'inter il canovaccio l'inter farne fa una meglio di versione ma non è una squadra che prende ti aggredisce altissima tiene palla tiene il possesso eccetera bisogna stare attenti a che l'inter è la versione pro diciamo così di questo atteggiamento esatto quindi la mia speranza è che comunque queste cose servono un pochino di insegnamento non è stato bello l'arbitraggio non è stata bella la prova di certi giocatori del Milan che veramente sembravano rimasti sul pulmo a Milanello e e quindi è stato tutto brutto brutto al comportamento di certi giocatori della Roma brutto quello che ho detto le decisioni arbitrali non c'è stato forse niente di bello nel tardo pomeriggio serata di ieri ma proprio niente in tutti i 90 anzi 100 minuti prima dopo non mi sono piaciute le dichiarazioni di nessuno dei due gli allenatori perché anche Pioli che mi viene a dire non abbiamo giocato male non so che partita abbia visto Mourinho lo lasciamo perdere perché se no ci chiudono il canale insomma ieri è stata una roba brutta brutta salvo in tutto quello di ieri salvo il cuore e l'animo di Sandro Tonali che è forse l'unico barlume di luce nel buio di ieri pomeriggio sera guarda adesso andiamo a vedere appunto le pagelle delle due squadre chiudo riproponendo la pagina di prima giusto per fare un accenno a quello che è stato scritto la gazzetta dello sport oggi in edicola due punti persi ma al finale potrà essere glorioso questa è la dichiarazione di Pioli quelle di Mourinho come detto nemmeno io le ho messe le ho bypassate passate perché evitiamo belgio croce delizia due facce de chitelare enesimo flop brilla soltanto Salma che il trequartista sbaglia sul gol Pioli lo sgrida il colazionale siamo contenti solo a metà andiamo avanti andiamo avanti al 30 di aprile di parlare di 20 minuti sempre di sto ragazzo prima o poi me lo spiegaranno che per carità anche ieri entra da 5 lo sappiamo però di tutto quello di cui poteva parlare gazzetta dello sport oggi sulla partita di ieri e ce n'era proprio col secchio di quando diluvia si dice no viene giù col secchio ce n'era da parlare col secchio parlare proprio dell'ennesimo flop dei 20 minuti di sto ragazzo va bene è vero ok per me c'era ben altro da mettere in rilievo piuttosto che sta roba qua è vero c'hanno anche ragione mi sembra un po come dire estemporaneo ecco a parte raffaelleao che anche ieri comunque ha fatto scorrere il tassametro dei suoi numeri perché ha messo un altro assist a referto ed è l'unico in doppia cifra in Serie A due gol di Salmacher quattro di Messias cinque di Ibrahim zero di De Kjetelar tre di Rebic due di Origi otto di Giroud non c'è nessun altro giocatore in doppia cifra quello che ci si avvicina di più è Giroud che è il tuo primo attaccante che ha sempre giocato con otto gol Milan fa una fatica enorme a fare gol tolti i quattro gol di Napoli ultimamente se andiamo veramente col contagocce sia in Champions che in campionato facciamo un gol a partita se va bene se va bene e come scrive anche Z per decidere chi è davanti in classifica decidono i gol totali il ne ha fatti 52 la Roma 44 fate voi la gara a chi ne ha fatti meno perché siamo in pari in tutto 59 punti in classifica i due punti degli scontri diretti la zero nella differenza di reti generale dei due scontri diretti e la differenza di reti generale anche questa al momento è pari a più 14 diciamo che questa di solito è si si sfasa solitamente verso la fine dell'anno però ne mancano sei e siamo pari andremo a vedere le pagelle arrivi velocemente queste sono le pagelle del Milan di gazzetta le possiamo provare a dare anche noi in realtà in pratica è una sorta di sei politico a tutti o poco più ci sono dei sei e mezzo dei cinque e mezzo che ogni tanto riequilibrano la media ma per il resto siamo tutti sul sei quindi con il sei di pioli il sei di menian il cinque e mezzo di calabria il sei di chieri il sei di tomore il sei di crunici il sei e mezzo di tonali il sei di diaz il cinque e mezzo di benazzer il cinque e mezzo di girù il sei di ciao il cinque e mezzo di calolo il sei e mezzo di alexis al maquer e poi c'è il migliore in campo raffaeleao sei e mezzo e il peggiore teo e ornandez cinque e mezzo insomma la media matematica è sei una partita da sei beh per me c'era qualcuno anche forse meno da meno che da cinque e mezzo e farlo soprattutto il sei a crunici anche qui massimo rispetto per chi ha scritto queste pagelle come sempre non trova la mia come per dire non non fa scopa con la mia di opinione ma sicuramente molto più bravo la molto bravo la persona che ha scritto queste pagelle rispetto a me perché per me la partita di crunici era cinque se vogliamo essere buoni idem teo hernandez che ieri non so cosa gli sia successo sul migliore in campo io magari gli avrei dato lo stesso voto a tonali e leao però avrei messo sandro tonali perché rispetto a leao che comunque ti fa un assist e te ne fa un altro potenziale sandro mi è sembrato l'unico veramente forse insieme a mike l'unico che ha capito e che aveva capito il peso di di questa partita qua e però quell'altro ti fa ti fa assist e ti tiradezza la partita e soprattutto tu te ne aveva fatto un altro sprecato da san machere quindi ci sta che possa essere comunque il migliore in campo e per il resto sì sugli altri voti posso anche essere d'accordo ecco tanto tanto però crunici e teo per me sono uno scalino sotto forse anche benaser gli altri oscillano tra il 5 e il mezzo e il 6 io avrei dato anche qualcosina in più a malik ciao che direi che nel secondo tempo è stato un ottimo subentro e ha dimostrato che le caratteristiche fisiche ma anche tecniche perché ha giocato delle buone palle ce le ha e essendo molto giovane può anche andare incontro a un paio di partite oneste poco più come è stato magari nell'ultimo periodo però ha le caratteristiche per venire fuori veramente un bel difensore non abbiamo messo il voto all'arbitro che ha dato gazzetta perché gazzetta tra l'altro è stata l'unica che lo ha bocciato ho visto che molti quotidiani invece hanno sorvolato sulla direzione arbitraia di orsato ma non è una novità non è una novità è il fatto che interventi del genere passano in cavalleria passa in cavalleria il fatto che non viene espulso un giocatore al 20 a 20 minuti della fine noi siamo sempre stati abbastanza d'accordo sul fatto di non protestare di non essere quelli che vanno davanti alla telecamera gridare urlare eccetera ma con un'eccezione l'unica eccezione che metto è la salute dei tuoi giocatori cioè non possiamo mettere a pentaglio il fatto che ci sono dei giocatori che vanno in campo vengono menati per 90 minuti picchiati non difesi non protetti dall'arbitro che ha messo lì apposta in teoria per evitare che si vada oltre il regolamento e ti comprometta anche il finale di stagione il problema è che ieri si è andati palesemente oltre tra l'entrata di Matic quella di Kumbulla quella di Ibanez quella di Ebram sulla punizione di Giroud Mancini che ogni due per tre era dietro a tirare calci e calcini e calcetti e provocazioni è l'arbitro che ti fa capire qual è l'andamento e quanto puoi come dire quanto puoi fino a dove puoi spingerti ecco e Orsato ha fatto capire fin da subito che certi fischi sarebbero stati come dire un po' più blandi e ti dirò ci può anche stare per me con la Roma non devi farlo perché palesemente la favorisci in questo senso qua però puoi arbitrare un pochino più come dire blando un pochino più indulgente va benissimo però ci deve essere un limite cioè ci deve essere un limite io capisco il non ammonire ogni fallo va benissimo però se c'è un'entrata col piede a martello gamba alta di quel tipo è da espulsione se indichi matic con quel fallo sulle a o come a dire e si capisce dalla dal linguaggio del corpo che lo stai dicendo dopo lo dopo lo ammonisco ma siccome l'azione dura tre minuti poi non lo ammonisci più non si sa perché e quando deve prendere giallo doveva essere il secondo invece il primo ecco queste cose qua pesano pesano io non sto parlando dell'arbitraggio proprio in sé perché scegli di lasciar giocare un po di più fa un pochino il gioco della Roma ma una scelta d'arbitraggio e va bene però se ci sono due espulsioni ci sono due espulsioni punto fine stop non c'è santo arbitrato male decisamente decisamente male bene per noi che non si è fatto male nessuno perché questo intervento su piede caviglia di salmacher non c'entra niente che sia basso il piede per essere espulso non serve che il piede entri nel ginocchio di salmacher non c'entra niente comunque alto il piede cioè è alto alta la pianta non so come dirlo i tacchetti spianati cioè la palla guarda dov'è che senso ha non da quantomeno non dire a orsato orsato vai al monitor a rivedere poi decidi che per il tuo metodo di giudizio è giallo ma di paolo al bar lo prende e lo manda al monitor altrimenti che cosa serve pagare questa gente mandarla a gestione credo che a prescindere da tutto andranno fatti dei dei ragionamenti su questo var perché così il var ha veramente poco senso poco senso di esistere cioè è brutto da dire perché per quanto mi riguarda salvo forse il primo anno e mezzo i primi due anni non lo so da quando è stato creato in cui effettivamente se ne abusava poi il var aveva preso un'ottima piega secondo me e eravamo andati verso una direzione molto valida nell'ultimo anno e mezzo non ci siamo proprio non ci siamo proprio io su questo resto veramente dubbioso sul perché non accadono certe cose ma non ti dico il rigore rigore in ogni partito ci può stare non ci può stare questo tipo di decisioni non si possono sbagliare come non si poteva sbagliare a bergamo con con leao e a te non si può sbagliare perché la palla è via già dal piede di salmacher per un metro metro e mezzo non si può sbagliare chiudiamo enrico con questo gazzetta oggi fa il prospettino con la corsa champions chi magari vedrà questo video saprà già il risultato che so dell'inter magari che va in campo tra poco la lazio sapremo già un po come si sarà mossa definitivamente la giornata dopo la trentaduesima il mio nella roma fare un passetto in più l'atalanta ne fa tre in più e arriva meno due la juve oggi va a bologna vediamo un po perché come vedete il calendario è ancora abbastanza lungo è insomma mancano ancora sei giornate alla fine ci sono anche parecchi scontri diretti tra le squadre c'è ancora c'è ancora molta carne al fuoco però dai e dai dai e dai io non vorrei fare tra un mese e mezzo l'elenco dei punti persi quando ti inizia a mangiare le mani io te lo dico io non accetto altro cioè per me il milan come minimo e ti sto parlando di minimo so che è molto esigente come cosa ma a questo punto per quanto mi riguarda lo devi fare devi chiudere la 70 70 vuol dire fare 13 punti vincere con la sampdoria e vincere col verona più un punto tra lazio e juve non è infattibile come cosa eh no 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 assolutamente per me devi chiudere la 70 poi vedi cosa fanno le altre però tu intanto pensa chiudere la 70 vedremo lo vedremo direttamente da martedì quando ci avviciniamo dalle dirette del di radio rossonera dalle 10 quel mattino milan per tutti i nostri appuntamenti classici della vigilia e quindi sarà già tempo di pensare a milan cremonese di mercoledì caro henry buona domenica buon ponte buon ponte a tutti buona domenica a tutti mi raccomando lasciate like che ci supporta tantissimo siamo con voi anche di domenica lasciamo stare quindi mi raccomando like scriveteci sotto nei commenti la vostra a freddo dopo una serata una nottata una giornata passata su questo roma milan scriveteci anche la cifra esatta quindi 70 72 68 65 secondo cui eh finiremo il campionato quindi il punteggio che il milan farà a fine campionato è un piccolo giochino che vi invitiamo a fare qua sotto nei commenti iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella basta cliccarci sopra e spuntare tutte le notifiche per ricevere notifiche sul vostro dispositivo ogni qual volta andremo live o pubblicheremo un nuovo contenuto buona domenica a tutti ci ritroviamo per le dirette martedì da domani da anzi ad oggi pomeriggio in poi le nostre clip il meglio di e tutte le interviste che abbiamo realizzato ultimamente grazie a tutti a martedì per le diretto mai senza monge natural super premium le crocchette made in italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente monge il pet food che parla chiaro